Calabria. Una ciclovia per recuperare un pezzo di territorio, renderlo fruibile in maniera ambientalmente sostenibile ed aprirlo alla conoscenza e dal turismo, rivitalizzando le aree interne. Sono queste le finalità sottese alla scelta della regione di dar vita ad una ciclovia sul tracciato delle dismesse ferrovie Calabro-Lucane, nel tratto tra Mormanno e Papasidero. L'iniziativa è detto in una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale, è stata finanziata con 3 milioni e 500 mila euro, ritagliati all'interno del fondo per la montagna su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura, Gianluca Gallo.